Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense, tra le notizie di questa sera parleremo della manifestazione per la pace che si è tenuta anche a Ferrara oggi pomeriggio, ricordiamo che oggi erano presenti due grandi manifestazioni a Roma e a Milano, ma ci occuperemo anche di vaccinazione anti-influenzale che sarà possibile effettuarla anche in farmacia. Poi spazio al Ferrara Food Festival, questo è il weekend di questo grande evento gastronomico, in particolare ci soffermeremo su quanto è successo questa mattina con l'Istituto Orio Vergani e poi ovviamente spazio allo sport, la Spal in Primis che ha pareggiato a Terni, ma ci occuperemo anche di basket con anticipazioni sulla sfida che il club terrà domani a Ravenna. Proviamo subito però dalla cronaca perché c'è stata un'aggressione con coltello in un garage di 100 ieri notte e un diciottenne purtroppo è rimasto ferito e quanto hanno denunciato due diciottenni questa mattina ai militari della cittadina del Guercino e uno dei due aggrediti avrebbe riportato una ferita da arma da taglio di un braccio con otto giorni di prognosi. Secondo quanto riportato dalle prime informazioni fornite dai carabinieri, l'aggressione sarebbe stata perpetrata da tre giovani e uno di loro sarebbe stato armato di coltello e nelle fasi più concitate appunto di questa aggressione avrebbe riportato lesioni un diciottenne che ha denunciato l'accaduto insieme al coetaneo. I carabinieri di 100 hanno avviato le indagini per verificare quanto denunciato e risalire ai presunti aggressori al momento ignoti. E parliamo adesso invece delle manifestazioni dunque contro la guerra, manifestazioni che sono svolte sia a Roma che a Milano e a Ferrara si è tenuta un'iniziativa in piazza Savonarola organizzata dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo dunque dalla voce di Pari dei Guidetti le ragioni che hanno spinto i partecipanti a scendere in piazza. Mi sono preso l'iniziativa di organizzare questa manifestazione, questo sit-in per dare dimostrazione a tutti i nostri concittadini che sono andati a Roma a manifestare per la pace che anche chi non ha potuto andare per motivi di lavoro o anche purtroppo per motivi economici è comunque sensibile al tema della pace. La manifestazione mi sembra che sia andata bene, molte persone sono venute con pochissimo preavviso e questo sta a significare che la maggior parte dei cittadini è contro la guerra, è contro il riarmo militare, contro il riarmo atomico. Questa manifestazione sta a significare che molti cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini è contro tutte le forme di guerra, è contro l'invio di armi indiscriminato ed è contro il riarmo, soprattutto nucleare, che fa molta paura perché di fronte a una minaccia nucleare sappiamo tutti che non ci sarà nessun vincitore. Adesso parliamo di un caso nazionale che riguarda anche il nostro territorio perché tocca anche Ferrara il caso delle denunce di presunti maltrattamenti, umiliazioni, pressioni psicologiche e fisiche e comportamenti antisportivi e lesivi delle atlete subite in passato da diverse ex-ginnaste durante la frequentazione dell'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio che è stata commissariata con delibera d'urgenza il 3 novembre dal presidente di Feder Ginnastica Gerardo Tecchi. Sul caso è intervenuta Alessia Maurelli, capitana della Nazionale di Ginnastica Ritmica ossia delle farfalle, Maurelli ricordiamo cresciuta nella palestra Putinati di Ferrara. Sono profondamente rattristate, confesso l'enorme disagio e malessere mio e delle farfalle in questi ultimi giorni qui a Desio. Queste appunto le parole di Maurelli, affidata ai social, ginnasta che sta continuando ad allenarsi al centro Lombardo. Non posso rimanere indifferente, ha aggiunto la ginnasta che si dice vicina alle ragazze che hanno denunciato e si dice pronta ad esprimersi al 100% nelle apposite sedi sperando che la sua esperienza possa aiutare le indagini a fare chiarezza. Maurelli che si augura che non si spenga la speranza di piccole ginnaste che sognano dunque di diventare farfalle. E torno all'attualità, il punto nascite di Cento, rischio chiusura, causa pochi parti. È intervenuta l'azienda USL di Ferrara e sentiamo dunque i dettagli nel servizio. Nessuna intenzione di chiudere il punto nascita di Cento è quanto ribadisce l'azienda USL di Ferrara a seguito del pronunciamento della commissione consultiva percorso nascita regionale sul quale la regione Emilia Romagna avrebbe già chiesto una richiesta di deroga a questa decisione. Torna ancora quindi il timore della chiusura del punto nascita al Santissima Annunziata di Cento in un contesto di carenza di personale medico, di ginecologie e di personale ostetrico che investe tutto il paese e riporta all'azienda USL sarebbero in corso il reperimento di professionisti con tutte le tipologie di reclutamento possibile aggiungono da Biacassoli obiettivo dell'azienda sanitaria garantire un livello adeguato di attività e sicurezza sul punto nascita di Cento. E rimaniamo sempre in ambito di sanità perché la vaccinazione anti-influenzale potrà essere somministrata anche in farmacia. Sentiamo come nel servizio. Ci si potrà rivolgere anche alle farmacie per la vaccinazione anti-influenzale. L'iniziativa nasce da un accordo tra la regione e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate. A somministrare il vaccino continueranno anche ad essere i medici di medicina generale aderenti alla campagna 2022-2023, i servizi di igiene e sanità pubblica e i servizi di pediatria di comunità. L'accordo, recepito da una delibera di giunta, permette alle farmacie convenzionate di somministrare il vaccino anti-influenzale a chi ha diritto alla vaccinazione gratuita, purché sia maggiorenne e risultato idoneo alla vaccinazione in farmacia a seguito dalla compilazione del modulo di pre-triage allegato. Le dosi di vaccino anti-influenzale provengono dalle quote acquistate dalle aziende sanitarie tramite procedure di gara centralizzata e sono messe a disposizione secondo una programmazione progressiva e in funzione delle prenotazioni presso le singole farmacie. In una prima fase per l'intera regione saranno disponibili complessivamente 15.000 dosi. E parliamo a questo punto del secondo giorno del Ferrara Food Festival oggi appunto in centro città nelle varie piazze, diversi momenti dedicati all'enogastronomia, alla cucina e alla tradizione che guarda però anche al futuro. Nel pomeriggio è stato conferito il premio Ambasciatore del Gusto 2022 a Chef Carlo Cracco, ospite speciale di questa edizione a cui daremo ampio spazio nei prossimi appuntamenti del nostro TV giornale. Ma torniamo a quanto è successo questa mattina in piazza municipale dove tra la piedina senza glutine e cocktail a base di pera si è tenuto l'evento 50 sfumature di arancione con la zucca protagonista dall'antipasto al dolce. Appuntamento curato dall'Istituto Vergani Navarra al centro della scena durante appunto queste tre giorni del Ferrara Food Festival. Vediamo com'è andata. Perché abbiamo cominciato con il primo show cooking legato a Mrs. Bugo poi abbiamo proseguito con la presentazione di altri prodotti del territorio e infine abbiamo realizzato appena concluso un percorso di verticale del gusto cioè verticale sulla zucca un prodotto tipico appunto del territorio ma la cosa più importante come si vinceva anche dalla domanda è proprio la voglia di mettere i ragazzi la condizione di essere protagonisti. Questa è la differenza perché nel momento in cui tu affidi a loro determinate responsabilità loro rispondono sempre con entusiasmo con impegno e con un valore che lascia delle volte allibiti i sorpresi perché loro sono più bravi di noi perché hanno quell'energia che molto spesso noi abbiamo superato perché siamo disincantati e invece loro ci restituiscono questo risultato che è veramente incredibile e sono molto contento. Poi la città risponde perché c'è il palla Simabio pieno e poi appunto i ragazzi che stavano tra le persone e anche un modo di stare in contatto dopo anni difficili. È verissimo è verissimo poi la cosa che mi sorprende addirittura di più è la capacità di gestire le difficoltà senza che nessuno gli dica fai questo o fai quest'altro sanno già cosa fare perché si sentono appunto i protagonisti e la scena perché noi chiaramente abbiamo messo a disposizione alcuni insegnanti ma non lo sono veramente tanti i ragazzi sono più di 150 perciò non possiamo prevedere cosa può succedere nella giornata il pubblico aumenta sempre di più sempre più interessato fa domande le fa al primo che trova e quando vede una divisa allora lì è automatico e i ragazzi rispondono con molta efficacia. Ultima domanda questo Ferrara Food Festival che importanza ha per la città e sta avendo sempre più sta crescendo la sua importanza nel corso degli anni? Allora ha due risultati evidenti i primi innanzitutto fa conoscere la nostra città in Italia e nel mondo perché poi dopo dal punto di vista mediatico le informazioni arrivano ovunque ma nel secondo aspetto che sembrerebbe secondario diventa quello più importante far acquisire un'autoconsapevolezza ferrese cioè far capire a chi è di Ferrara che valiamo che abbiamo tanto e che possiamo dare tanto molto spesso il fatto di essere un po' lontani dalla via Emilia non ci restituisce quella quel valore che invece noi sicuramente abbiamo una volta era il contrario adesso è così o sei sulla via di Emilia o sei stagliato fuori invece Ferrara è leader anche a cominciare dai marchi GP siamo i primi al mondo e quindi torneremo a parlare del Ferrara Food Festival domani ma tra le tante iniziative in corso a Ferrara in questi giorni c'è anche la ripresa di un film esattamente il film si chiama Il Soldato Senza Nome prodotto da Contro Luce e Valeria Luzzi l'opera si ispira a fatti reali ed è ambientato durante la prima guerra mondiale raccontando la storia del soldato semplice Ferruccio Mambrine che fuggito dalle retrovie del fronte si finge pazzo pur di salvarsi e qui il protagonista diventa Villa del Seminario attuale sede della città del ragazzo all'epoca ospedale militare di riserva tra i nomi più notti che vi passavano ricordiamo gli artisti Giorgio De Chirico e Carlo Carrà ma come nasce l'idea di un ospedale così all'avanguardia per l'epoca soprattutto nell'affrontare i problemi legati alla mente ce lo spiegano due attori che nel film interpretano due personaggi chiave li vediamo Il mio è un ruolo molto semplice sono il direttore dell'ospedale sono un uomo naturalmente di mezza età che quindi è legato a un mondo della medicina ancora ancorato al passato ottocentesco quindi che non riesce a comprendere che a nuove situazioni ci vogliono nuovi rimedi scientifici un nuovo approccio invece il mio secondo diciamo il medico più giovane che lavora con me ha capito che questi ragazzi che tornano dal fronte vengono mandati all'elettrice sono vittime di uno shock da combattimento e non sono semplicemente o dei semplici matti chiamiamoli così o delle persone che fanno finta per evitare di andare a combattere ecco diciamo che io conduco la parte negativa del film la linea negativa cioè quella linea che vorrebbe continuare a mantenere metodi di approccio alla cura delle persone con certi problemi vecchi e anche violenti sostanzialmente davanti invece a una visione più aperta moderna che è quella che poi il film racconterà all'interno di questo film diciamo che il ruolo di Boschi è un po' il collante diciamo la ruota su cui girano i personaggi principali di questa di questa storia parliamo dal presupposto che Etano Boschi è un medico una persona del territorio di Ferrara che aveva capito in anticipo aveva intuito che i malati di guerra non erano malati mentali ma erano semplicemente appunto malati di guerra quindi aveva tentato ha fatto degli studi per interrompere queste diciamo barbarie che prima erano fatte ai ai reduci di guerra stiamo facendo un bel film importante basato su una storia vera e quindi direi che siamo tutti ancora molto carichi entusiasti e credo che arriveremo alla fine del film con il massimo impegno e la massima dedizione e adesso apriamo un'ampia pagina sportiva prima di calcio e basket ci occupiamo di un grande evento che si terrà questa sera perché le quattro giovani patinatrici della Patinatoria Estensi parteciperanno al World Skate Argentina 2022 praticamente i mondiali di pattinaggio artistico insieme alla loro allenatrice la campionessa del mondo Cinzia Roana si trovano appunto da qualche giorno a Buenos Aires e il quartetto che è chiamato Alter Ego si esibirà secondo l'ora locale alle 18.45 e ricordiamo che saranno visibili in streaming sul sito worldskategames.tv e ovviamente poi vi aggiorneremo domani sul risultato invece risultato già concluso per la SPAL oggi impegnata contro la Ternana fuori casa 0-0 appunto l'esito della partita ma sentiamo tutti i dettagli della cronaca di Alessandro Sovrani la SPAL è tornata da Terni con un punto meritatissimo anzi se c'è una squadra che ha qualcosa da recriminare per non essere riuscita a conquistare l'intera posta in paglio è proprio quella di Daniele De Rossi molto più compatta molto più attenta in grado di concedere pochissimi spazi ai tentativi di costruzione della manovra agli avversari la formazione bianco-azzurra ha avuto una serie di limpide opportunità per sbancare i liberati ricordiamoci affrontava una squadra che alla vigilia del turno di ero si ritrovava in piena zona promozione diretta visto l'indisponibilità di Burge ha squalificato De Rossi ha puntato al centrocampo su Valtania che ha fatto il suo senza grandi slanci ma ha presidiato con attenzione e continuità la propria zona mediana bene sugli esterni dicono e soprattutto Celia oggi al rientro visto l'infortunio in cui era incappato tra i paldelli continua la spinta sulla corsia mancina dell'esterno ex Novara mentre al centro della difesa Meccariello ex di turno tanto atteso ha diretto da Parasua le operazioni spalleggiato al meglio da Peda e dalle mura e anche da Albici quando è entrato nel corso della ripesa in sostituzione del giovane polacco centro campo un po' in difficoltà nel primo tempo Espolito che ha perso molti palloni ma poi è cresciuto nella ripresa molto più volitivo Moncini non solo in fase conclusiva e quindi anche per lui oggi c'è da considerare una prestazione positiva così come quella di La Manchia i due attaccanti hanno dato molto appoggio ai centrocampisti e quindi tutta la squadra ne ha tratto vantaggio la Terrana ha giocato tutto per tutto ha cercato in particolar modo nel primo tempo di mantenere più a lungo l'iniziativa ma solo nella prima fazione di gioco si è resa pericolosa al decimo con Cassata gran conclusione dal limite ottima la risposta di Alfonso poi al ventottesimo la squadra ha avuto una grandissima opportunità per passare in vantaggio Moncini c'è andato sul fondo dalla sinistra ha messo un pallone in raso a terra a non più di due metri dalla porta avversaria la mantia ha rubato il tempo agli avversari ma ha alzato la sfera seppur di poco oltre la traversa della porta difesa da Iannarilli brivido per Alfonso al 33esimo sinistro a giro di Palumbo palla lato di un niente poi al 45esimo stava per combinarla grossa l'estremo difensore della spalla ha cercato un dirbling in piena area su Palumbo che gli ha rubato il pallone lo ha servito a partipilo la porta era sguarnita partipilo non ha trovato la possibilità di andare alla conclusione ci ha provato successivamente Donnarumbo sembrava fatta per la Ternana ma Peda con l'entrata in scivolata con un intervento che vale un gol ha sventato la minaccia qui si è praticamente spenta la Ternana perché nel corso della ripresa la formazione di casa mai è riuscita a rendersi pericolosa gran possesso palla da parte dei giocatori della formazione terrarese costantemente con partente dal basso è cresciuto e spolito dopo un primo tempo un po' in ombra la Ternana ha provato anche il cambio di modulo con l'inserimento di difendi per Agassi passando quindi dalla formazione con 4 difensori a 3 difensori 500 campisti e 2 punti 2 punte mossa che non ha dato minimamente i frutti auspicati da parte del tecnico Lucarelli della squadra di casa non sono serviti anche i vari inserimenti voluti dall'allenatore della Ternana con giocatori sulle qualità di quali non si può discutere come Falletti Pettinari Defendi Fabilli e Martella ma le cose non sono cambiate anzi sono cambiate in meglio per la Spal che cammina facendo ha inserito anche a Bici che ha giocato una buona gara in sostituzione di Peda quindi Proia Zanellato produttivo il suo inserimento in sostituzione di Maestro poi anche quello di Rabi per la Mantia e la Spal nel corso del secondo tempo ha avuto tre grandi opportunità al sesto che era l'apertura di Espol da sinistra verso destra per Dickman controllo orientale in piena area di rigore si è aperto lo specchio della porta avversaria dinanzi a Dickman che ha scagliato però malamente il pallone con quello che non è il suo piede forte ovvero il sinistro abbondantemente all'altro rispetto al palo d'esco della porta difesa da Ianna Lilli 25esimo minuto cross teso di Ceria dicevamo tra i migliori nelle file della formazione bianco-azzurra così come tutti i componenti del pacchetto arretrato per Moncini che dalla linea di fondo ha rimesso non più di due metri dalla porta avversaria al centro un pallone sul quale si è catapultato Zanellato in condizioni di piegare il frivio il centrocampista ex-Crotone ha praticamente spedito il pallone sul fondo con il ginocchio quando sembrava fatta così come al quarantunesimo quando ancora Ceria sulla sinistra se n'è andato ha servito Rabbi che è intanto in area di rigore tiro cross al raso terra sul secondo palo dove è difficile capire come Moncini non si è riuscito ad arrivare sul pallone che poi ha terminato la sua corsa a fondo campo intanto domani torna in trasferta il club basket Ferrara alle 17 la squadra estensa sarà impegnata contro la Orasi Ravenna intanto è ancora alto l'entusiasmo dopo la vittoria contro 100 di domenica scorsa e ci ha parlato di questo oggi Mauro Cabina nel corso di match una vittoria contro ogni pronostico di quelle che i bookmaker avrebbero sicuramente avrebbero fatto vincere un sacco di soldi e che è scommesso sebbene che non sia uno scommettitore quindi non so di cosa sto parlando e comunque sì uno spettacolo uno spettacolo vero dentro Giuseppe Bondi Arena grande tifo da una parte dall'altra intanto perfetto l'esia manda le immagini questa è la curva di Ferrara qui c'è anche la curva di 100 e comunque rivedere un po' la sport pieno è sempre per gli amanti dello sport è sempre un bellissimo spettacolo è stato uno spettacolo in campo perché la sfida è stata aperta per tutti i 40 minuti e qui ecco vedete la curva di 100 è stata una sfida aperta per tutti i 40 minuti e si è decisa in volata quindi grande pathos grande anche livello di gioco quindi si è visto del bel basket spettacolare una sfida di tutto gradevole come ama dire Dario Salvato chi perde sempre chi non c'era domani domani si torna in campo a Cesena in quello che è sostanzialmente un altro derby Ferrara contro Ravenna si giocherà in un po' la sport che non è la casa dell'orasi di Ravenna una sfida molto importante perché sono due punti che contano molto per evitare le zone basse della classifica Ravenna è un po' una delusione in questi inizi di campionato e quindi Ferrara magari può tentare di fare il polpaccio di trasferta non sarà facile però ci si prova ovviamente vi anticipo che la serata del lunedì sarà quella dedicata come sempre allo sport tra basket e calcio detto questo siamo in chiusura vi ricordo come sempre teleessenso.it e i nostri canali social dove trovate queste e altre notizie come sempre dunque grazie per averci seguito e l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione Grazie a tutti